Musica Dottoressa Giussi Iem, vice sindaco di Catanzaro, siamo qui nel Palazzo De Nobile, sede dell'amministrazione comunale per la firma del protocollo d'intesa tra Lions e UMPLI nazionale. Sì, un protocollo d'intesa che chiaramente riveste un'importanza particolare per il comune di Catanzaro in un momento anche storico particolare di transizione sotto ogni punto di vista culturale, sociale ed economico. Il protocollo d'intesa è l'espressione di come le associazioni e le istituzioni, anche le amministrazioni locali possano e debbano collaborare per dare delle risposte a un territorio che chiede attenzione, che chiede di essere protagonista. E tutto questo passa ovviamente attraverso quello che è la cura della comunità, la cura delle persone, in particolar modo delle persone più fragili. Attraverso questo protocollo d'intesa siamo certi di poter mettere in campo delle iniziative nell'ambito delle politiche sociali, così come in risposta a quella che è la richiesta di salute che ci viene dai cittadini e nell'ambito del settore della formazione. Ecco, questo per noi rappresenta un percorso importante che ci porterà attraverso la sinergia a dei obiettivi ambiziosi. Grazie.